Quando nel nord Italia piove così, per giorni, con insistenza, finisce sempre allo stesso modo. L'acqua fluisce nel po' e chi vive sulle sponde aspetta la piena. Succede da decenni, succede ancora. L'ondata scende dagli affluenti. Nella notte di ieri, in provincia di Cremona, dove passa il fiume Serio, il corpo di un uomo è stato trovato in un canale artificiale. È morto cercando di alzare una paratie. Si aggiunge alle quattro vittime dei giorni scorsi, annegate o travolte da frane, tutte nel nord Italia. L'Italia non può permettersi di pagare dazzi di questa portata. È il commento di Franco Gabrielli, capo della protezione civile, proprio in queste ore. Il Po potrebbe non lasciare dormire sonni tranquilli, ha detto. Anche perché le golene, ovvero le vasche fatte per ospitare il fiume quando esce dal suo letto, invece di essere libere, sono abitate. Proprio vicino a Cremona, il livello del Po continua a crescere. Nei prossimi due giorni, e in particolare sabato, la piena dovrebbe interessare un tratto di circa 80 chilometri, fra Casal Maggiore e Sermide, in provincia di Mantua. Così dice l'Agenzia Interregionale per il fiume, nel bollettino spedito alla protezione civile. Non è certo che il fiume esondi, spiegano dalla sala servizio di piena a Parma, ma è il rischio elevato, il grado di allerta più alto. Anche se dalla sala di controllo a Ponte Lago Scuro, in provincia di Ferrara, uno dei punti più a rischio dove le cronache regolarmente registrano esondazioni, fanno sapere che la situazione è sotto controllo. L'acqua aumenta, ma non dovrebbe oltrepassare il livello di norma. Per domani la protezione civile ha lanciato l'allerta su possibili allagamenti nella pianura attorno a Modena e Reggio Emilia. Pericolo frane, invece, nelle province fra la Lombardia e il Veneto. Ma è nel fine settimana, in particolare, che potrebbe scatenarsi il maltempo e tornare ancora in Liguria, la regione con il territorio più fragile e che ha già subito più danni. In alcune zone non è ancora tornata la corrente elettrica. Dopodiché i temporali, dicono le previsioni, dovrebbero spostarsi verso la Grecia.